In Piazza Rizzo a Pescara, seconda edizione di Diversamente Bravi, iniziativa riservata al mondo del volontariato e in modo particolare al settore della disabilità. Curare tutto nei minimi particolari, la Will Pensionati di Pescara, Gian Piero Fattore, una ventina di associazioni attenzionati davanti ad un pubblico molto entusiasta. È stata veramente una serata eccezionale e dico che queste associazioni di volontariato meritano tutto il rispetto e tutta la considerazione perché fanno delle cose straordinarie, delle cose eccezionali. Io oggi ho più imparato che magari espresso perché quello che mi hanno dato, ognuna di queste associazioni, è qualcosa che mi rimarrà nel cuore, qualcosa di toccante perché sono esperienze veramente incredibili. Noi dobbiamo credere nell'associazionismo, nel volontariato, credere soprattutto nel fare in modo che queste associazioni, che queste persone, diversamente brave, dico io, non disabili, sono diversamente brave, possano essere accompagnate nell'inclusione sia dal momento in cui iniziano le scuole, al momento in cui si formano, al momento in cui iniziano a lavorare, fino alla pensione. Dobbiamo accompagnarli fino a che hanno un percorso lungo perché sono persone che hanno bisogno di attenzione e sono persone speciali e non hanno bisogno di essere considerate diverse dalle altre. Siamo davvero un popolo solidale, lo abbiamo dimostrato anche questa sera, tantissime realtà che crescono di anno in anno. Ma realtà che crescono, a me ha fatto molto piacere le attenzioni da parte di tutta la Giunta Comunale, compreso il Sindaco e gli assessori che ringrazio Sindora e che hanno permesso con il loro patrocinio e la loro compartecipazione di fare questa bella manifestazione. È ovvio che le criticità ci sono, bisogna migliorare, bisogna fare in modo che queste associazioni abbiano un proscenio sempre più importante e fare in modo che le persone oggi hanno toccato con mano cosa fanno e come si comportano queste associazioni.